Michelino Marro dunque vittoria senza storie magari non nel punteggio perché è arrivata con un 3 a 0 ma devo dire forse ancora migliore per la gestione del risultato avuta nei 40 minuti di gioco. Sì come hai detto tu un risultato che alla fine corona una vittoria però bugiarda per il risultato ma l'importante era portare a casa questi tre punti fondamentali e ci siamo riusciti. Ci siete riusciti e chiaramente c'era tanta voglia di riscatto, di rivalza ma insomma lì sono stati i calci di rigore a tirarvi fuori da quella final eight e poi soprattutto Barrichello aveva quella marcia in più perché non ha potuto giocare quella gara. Sì ma di fatti avevamo detto in settimana che se avessimo vinto i calci di rigore e avevamo giocato la semifinale contro poi il Ruo di Puglia con un Barrichello in più e con l'entusiasmo della città e del pubblico che è venuto a tifare per noi nelle final eight penso che portavamo a casa anche quel risultato. Togliendo quella semifinale non fatta perché purtroppo calci di rigore sono una lotteria e ci è andata male e sapevamo che oggi era una partita importantissima e l'abbiamo affrontata sia dal riscaldavento come una semifinale di finale eight. Assolutamente tu hai esperienza da vendere e puoi insegnarci a tutti. Possiamo dire una cosa un'opportunità storica è stata la final eight dove è andata male non vi ha girato bene però ora avete un'altra opportunità e forse da quella delusione può crearsi una nuova strada che a questo punto perché non seguire. Sì ma io dico come dici tu dall'esperienza ho avuto tante vittorie però ho avuto anche il piacere dico piacere di essere sconfitto perché penso che poi dalle grandi sconfitte dalle brutte sconfitte si costruiscono grandi vittorie. Questo è un gruppo che creato ad agosto nessuno avrebbe scommesso un euro per dire stai a marzo secondo in classifica e avresti fatto le final eight qui a Campobasso di calcio a 5. Quindi ora è lecito sognare, noi continueremo ad allenarci e fare sacrifici per portare a casa quest'altro risultato che sarebbe storico perché fare un playoff in un'ottima posizione per raggiungere la Serie A penso che qualsiasi squadra vorrebbe fare.